fratelli e sorelle carissimi siano lodati Gesù e Maria sapete Gesù ha detto delle cose che non si dicono più eppure colui che parla non è un uomo qualsiasi e neppure un grande uomo è il nostro Dio colui a cui dobbiamo obbedienza perfetta senza un se e senza un ma senza neppure un segno di punteggiatura alla sua parola. Ginkavise le recenti testimonianze sta dicendo cose molto belle molto forti e molto importanti tra queste quando Dio ti dice qualcosa non devi esitare devi farlo e poi porta una sua testimonianza di vita questo punto è molto importante quando il Signore ci fa progredire spiritualmente quando il Signore ci fa avanzare non si può discutere con lui e dire no sai non mi conviene no ma poi gli altri non capiscono no ma poi come mi vedono ma poi cosa succede qua cosa succede là no fratelli e sorelle con Dio non si discute perché il Signore è sapiente è onnipotente misericordioso con lui non si discute ci ha provato Giobbe ha sbagliato e noi non dovremmo fare lo stesso errore vedete lo stesso Cavisel in queste sue testimonianze dice a un certo punto fa riferimento alla spada a Gesù che porta la spada Gesù ha detto non sono venuto a portare la pace in questo mondo sono venuto come una spada che divide sono venuto a portare la spada che significato ha questo nel tuo cuore continua Cavisel egli è il Messia ha sbagliato a dire queste parole oppure ti sta lanciando una sfida sì ti sta lanciando una sfida e vi dico chi è mio fratello chi è mia sorella tu sei mio fratello tu sei mia sorella voi che seguite Gesù sapete Gesù è re della pace ma perdonatemi se dico questo e non travisate Gesù è anche re della guerra perché affinché ci sia la pace vera ci vuole prima la guerra la falsa pace che viene dall'accomodamento delle parole di Gesù Cristo e dal travisamento delle parole di Gesù e dal continuo compromesso tra bene e male quella è falsa pace Gesù la vomita Gesù la rigetta Gesù la odia quella falsa pace è strumento di Satana per portare alla corruzione il mondo la chiesa le anime Gesù porta la vera pace e dice Fulton Shee Gesù è venuto a portare la spada quella che trafigge i becchini dell'anima i sette vizi capitali la prima spada la prima guerra che va combattuta è dentro di noi non c'è pace senza guerra se non combattiamo e diciamo vabbè ma questo è il mio carattere diceva San Jose Maria scriva smettila di dire il tuo carattere si uomo combatti combatti con i nemici che è dentro di te non dargli pace non dargli tregua finché non li vedi annientati questa spada è venuta a portare Gesù e questa spada richiede guerra e questa guerra è eroica se non la facciamo nessuna pace viene ma poi Gesù è venuto a portare anche la spada al di fuori di noi sapete fratelli e sorelle tante persone oggi fanno fatica a rimanere in un equilibrio tra atteggiamento caritatevole e tra necessità di vivere e anche proclamare la verità è un equilibrio molto sottile e molto difficile molto delicato il principio però è questo quando anche nelle famiglie quando nelle comunità religiose quando nei luoghi in cui si ci si trova a vivere c'è tanta differenza c'è tanta differenza tra una persona e l'altra tra uno stato spirituale un altro noi non possiamo rinnegare la grazia che Dio ci dà se il Signore da 80 bisogna corrispondere 80 se il Signore fa da tanta luce quella luce non si può rinnegare se per grazia di Dio io vedo capisco delle cose perché il Signore me le ha fatte capire non posso rinnegarle non posso livellare la mia vita spirituale per un falso rispetto degli altri non posso dare a Dio gli scarti perché devo mettere al primo posto le persone le circostanze in questo senso Gesù dice un'altra porra lo durissima oltre a quella della spada è sempre in quel contesto dice chiama suo fratello sua madre sua sorella i buoi campi più di me non è degno di me significa proprio questo fratelli sapete nessuno ci commenta queste parole nessuno ha il coraggio di dirle ricordarle e commentarle la famiglia gli affetti chi li ha creati se non Dio come può non amarli come può non volere che si rispettino e che ci sia armonia in essi purtroppo tuttavia il cuore dell'uomo è un cuore infingardo se tutti amassero Gesù Cristo se tutti amassero e vivessero secondo la volontà di Dio secondo quanto lui comanda secondo la sua legge non ci sarebbe bisogno di vivere il dramma di questa parola del Signore perché si potrebbe amare Dio e gli altri i nostri cari tutte le cose le situazioni con pieno ordine purtroppo ciò non è possibile e allora Gesù l'ha detto e quella parola rimane in eterno chi ama più di me qualcuno o qualcos'altro non è degno di me e quindi se il Signore ci fa fare dei passi in avanti e chi ci sta attorno non non è che non li riesca a fare ma non li vuole fare è diverso perché c'è chi non li riesce a fare ma si fa portare volentieri avanti e lì tutto il nostro tutta la nostra umiltà tutta la nostra bontà per accompagnare gradualmente gli altri ma chi non vuole guardate e allora cosa si fa bisogna avere in famiglia nelle comunità in qualsiasi luogo siamo chiamati a essere vivere tutta la carità possibile tutta la bontà di sentimenti e di modi ma non possiamo farci abbassare perché gli altri non vogliono alzarsi questo sarebbe amare gli altri più di noi e se da questo ne viene la sofferenza e ne viene la sofferenza ne viene tanta gloria a Dio sapete in tempi antichi e anche non troppo antichi i grandi eroi della fede portavano gli strumenti di penitenza sul loro corpo cilizi cordicelle flagelli altro bene non sono scaduti tutti questi strumenti eppure oggi viviamo una flagellazione spirituale potremmo dire viviamo una coronazione di spine non sul capo sul capo del nostro corpo sulla testa del nostro corpo ma sul cuore tante spine che circondano e pungono e entrano dentro il cuore cilizi che attorniano l'anima e la fanno sanguinare sono proprio molto spesso queste realtà che producono tutto questo e questa è vera penitenza questa è vera imitazione di cristo crocifisso perché se noi non vivessimo intensamente seriamente la nostra vita di fede non ci sarebbero queste sofferenze e andremmo d'amore d'accordo in modo mondano con tutti quanti ma non possiamo non possiamo perché Gesù è più importante di tutto il resto e non possiamo rinnegarlo praticamente in modo esistenziale dicendo no signore più di tanto io non faccio più di tot non ti do più avanti di qui non vado perché poi mi succederà questo perché poi non mi capiscono perché poi non ci sarà più pace in famiglia ripeto tutta l'amorevolezza possibile ma non possiamo abbassarci perché gli altri non vogliono alzarsi alzarsi quando abbassarsi significa piegarsi amorevolmente verso le difficoltà altrui sì ma se quello significa rimanere nani perché gli altri vogliono essere nani sarebbe appunto come un approvare sottoscrivere la tiepidezza che Gesù ha condannato nella sua parola sacrosanta i tiepidi la tiepidezza Gesù la vomita e quella terribile lettera alla chiesa della odicea rimane oggi più attuale che mai e dondolindo ruotolo spiega e commenta benissimo quelle quei versetti biblici spiegando che chi sta in quella tiepidezza considera folli pazzi fanatici quelli che invece zelano l'onore di dio che per amore suo non si danno tregua che vivono costantemente nella preghiera nell'offerta perché sentono l'urgenza della salvezza proprio altrui la carità di cristo ci urge ci spinge dice san paolo questo è quello che hanno vissuto tutti gli uomini e donne di dio una urgenza spirituale una forza che gli scuote lo zelo per la tua casa mi divora come si fa a rimanere indifferenti davanti a tanti oltraggi all'eucarestia la madonna bestemmiata rinnegata sottaciuta nelle chiese non si vede questa presenza di maria santissima nella maggior parte delle chiese dov'è l'onore alla madonna dov'è dov'è dove si dà l'onore alla madonna scompare è quasi non presente come si fa a non essere divorati dallo zero però il tiepido il mondano considera pazzia tutto questo e allora anche noi ci considereranno pazzi cari fratelli e sorelle perché ogni cristiano veramente cristiano vive una drammatica incomprensione una drammatica incomprensione gli altri non comprendono lui e lui non può comprendere gli altri gli altri non comprendono lui che vive così per dio di dio con questi suoi pensieri con questi suoi aneliti non può essere compreso e il vero cristiano non può comprendere la follia di chi vive per il mondo del mondo con massima tranquillità e non si cura per nulla della sua anima guardate c'è un abisso che divide gli uni degli altri e la cosa più drammatica ma Gesù ce l'aveva predetto è che quando questa differenza quando questa drammatica spada separa all'interno delle stesse famiglie o realtà nelle quali si deve vivere si è chiamati a vivere in obbedienza a dio che vuole pensate in una famiglia dove dio chiama alla convivenza chi vive convivenza tra marito e moglie marito e moglie non possono sciogliere la convivenza perché la pensano in modo diverso se il matrimonio chiaramente è un matrimonio valido un matrimonio che esiste che c'è e cosa si fa? si vive questo dramma comunità religiose dove a un certo punto scelte diverse percezioni diverse creano delle profonde divisioni e chi vuole diventare santo chi vuole dedicarsi veramente a dio di osservare fedelmente la propria tradizione religiosa non può farlo se lo fa viene etichettato viene bollato viene perseguitato eccetera eccetera cosa si fa? è il martirio dei nostri tempi ma ci ricorda Fulton Shee abbiamo bisogno di un Cristo oggi che composto composto un flagello con funi scacci dei nostri nuovi tempi coloro che lì attendono a comprare a vendere di un Cristo che biasimi gli alberi di fichi sterili di un Cristo che parli di croce e di sacrifici e la cui voce somiglia alla voce del mare in tempesta e che non ci permetta di piruccare scegliere tra le sue parole tra queste c'è anche sono venuto a portare una spada chi ama suo fratello sua madre sua sorella più di me non è degno di me abbiamo bisogno di questo Cristo che non ci permetta di scegliere tra le sue parole scartando nelle difficili accettando soltanto quelle che compiacciano alla nostra fantasia al nostro vuoto falso cristianesimo abbiamo bisogno di un Cristo che ristabilisca lo sdegno morale che ci induca ad amare profondamente il bene a odiare profondamente il male quando viviamo queste realtà fratele e sorelle ripeto non c'è possibilità di comprensione con tantissime persone non è una questione di mi spiego meglio non è un fatto di parole è un fatto spirituale è una è un discrimine spirituale noi non possiamo non possiamo in alcun modo evitarlo non è colpa nostra possiamo perfezionarci sempre di più nei moti caritatevoli del nostro parlare del nostro agire del nostro compassionare compatire quello sì ma ripeto non possiamo diventare nani quando la volontà di Dio e la sua spinta interiore ci chiamano a diventare giganti non possiamo farlo questo è rinnegare Cristo quindi fratelli e sorelle dice ancora l'ottimo Cavisel giustamente giustamente che il cristianesimo di oggi il cosiddetto lo status quo di questo cristianesimo moderno con il suo sciocco vangelo della prosperità bisogna gettarlo via bisogna cestinarlo cestinarlo il Dio che ti dice il Dio ti vuole vuole che tu stia bene che tu abbia cose belle che tu che tu non abbia problemi questo non è autentico continua Ginkabisel questo non è autentico non è autentico Gesù lo vedo in croce i santi li vedo perseguitati non perché è bella la croce o la persecuzione ma perché è la logica conseguenza di certe scelte che si compiono non possiamo ammorbidirlo non possiamo non possiamo neutralizzare la forza del Vangelo la forza della parola di Dio che ci spinge alle altezze ai vertici della santità e della grazia di Dio cari fratelli e sorelle spero che più che dolore queste parole vi hanno potuto portare conforto perché in effetti io so lo so che ci sono tante persone veramente di Dio il cui cuore è veramente marchiato a fuoco dall'amore di Dio che vivono in queste sofferenze atroci perché c'è questo problema c'è questo discrimine e nessuno li aiuta a capire che non è colpa loro che non sbagliano se non c'è pace in quei contesti non è loro responsabilità se proprio si volesse attribuire a qualcuno la responsabilità bisognerebbe attribuirla a Dio stesso che crea questo discrimine ma neppure a Dio ma alla cattiveria alla sì all'infingardia di quei cuori che anziché aprissi a Dio si chiudono a Lui e di conseguenza A e B diventano e sono e sempre resteranno cose diverse il male e il bene Gesù e il mondo il desiderio di santità e il desiderio di comodità non c'è nessuna possibilità di conciliazione fratelli e sorelle chiediamo al Signore alla Madonna a tutti gli angeli ai nostri santi protettori e patroni di custodirci di aiutarci di guidarci di santificarci sempre di più e di darci il coraggio la forza di vivere il vero cristianesimo di non rinegare mai il Signore con le nostre parole con le nostre scelte con i nostri pensieri con le nostre omissioni siano lodati Gesù Giuseppe e Maria e Maria e Maria Grazie a tutti Grazie a tutti